Il Presidente di Commissione ha appena detto che sui test psicoattitudinali le polemiche sono sterili e lui si rammarica. Non ha ragione di rammaricarsi, le polemiche sono più che fondate per ragioni di forma e per ragioni di sostanza. L'idea che bisogna introdurre i test perché oggi i magistrati non hanno controllo è proprio l'idea sbagliata che noi contestiamo. I controlli ci sono, questi test che ora per essere in qualche modo portati con un pizzico di garanzia sono totalmente anacquati. Un Presidente di Commissione, di solito è un magistrato, che deve condurre il colloquio psicoattitudinale con quali esperienze, serve solo a impedire che ci sia una reazione più forte come quella che c'è stata quando girava la bozza. Dice il Ministro Nordio, non c'è nessuna lesa ma è stata la magistratura. La verità è che la magistratura è un Ministro della Giustizia piuttosto agguerrito nei vostri confronti. Il Ministro della Giustizia lo vorremmo più attento sul piano delle risorse, il Dottor Zurlo parlava di processi lenti. Beh, anche noi ce ne lamentiamo, c'è una totale carenza sul piano delle strutture, soprattutto informatiche. Quindi se ci fosse un Ministro più attento e più presente su quel versante ne saremmo i primi ad essere lieti e a compiacerci. Dopodiché la magistratura ogni giorno nel suo complesso ha il netto delle singole eccentricità, da prova di grandissima razionalità, portando a coerenza di sistema leggi che spesso si fa molto fatica a leggere razionalmente. Quindi io tranquillizzo l'opinione pubblica perché è quella a cui si rivolgono norme di questo tipo. Pensa anche a leggi di questo governo. Anche a leggi, per carità. Diciamo dell'ultimo periodo. Lo sforzo di razionalizzazione lo facciamo ogni giorno e credo con grandi risultati. Vorrei tranquillizzare l'opinione pubblica. Non siamo così squilibrati come questo tipo di annuncio fa intendere. Non abbiamo bisogno di aggiungere controlli che poi, edulcorati in questo modo, servono a poco. All'ingresso il Presidente di Commissione assistito da uno psicologo, uno psichiatra, ancora non lo sappiamo. È solamente una norma manifesto. Questo è il vero problema. E per questo il Ministro deve comprendere che le nostre non sono polemiche sterili. Siamo noi ad essere rammaricati della scarsa attenzione che la magistratura italiana ha oggi. Ma pensate di poter arrivare a uno sciopero, a una forma di protesta eclattante? Cosa potete fare a questo punto? Non lo so. Ne parleremo di nuovo. Ne abbiamo già parlato. Poi vedremo intanto parlarne. Comunque siete tutti uniti la magistratura. Siamo tutti uniti, ma perché è una norma, se posso, irrazionale, non ha grande senso. E quindi ci unisce tutti, quale che siano le anime. È una norma che entrerà nel 2026. C'è spazio per convincere coloro che pensano che siano utili della totale inutilità di questo sistema. Poi, i controlli psichiatrici ci sono, ma ci sono i controlli sulle... Abbiamo tante persone che si ammalano in magistratura, si hanno 9.000. Ci sono le malattie fisiche e le malattie psichiatriche. Ma questo, purtroppo, siamo tutti sotto il cielo. Non ne farei, come dire... È per questo che avete l'organo di autogoverno, ci sono i controlli interni. C'è anche il ministro che, attraverso le sue ispezioni, può rilevare l'eccentricità di cui si parla e magari dire, guarda, Consiglio Superiore deve intervenire. Ecco, se fosse presente anche su questo, invece di introdurre test così eccentrici, forse sarebbe più utile. Allora, vedremo che cosa accadrà.